Quando noi fummo sull'ultima chiostra di male borge, si icri suoi conversi, potiam parere dalla venuta nostra, lamenti saltaroni i diversi, chi di pietà ferrate ave andi strani, ondio le orecchie con le manco persi. Quali coloro fuora, se degli spedali di Val di Chiana tra luglio e settembre e di Maremma e di Sardegna e Mari, fossero in una fossa tutti i novembre, tale acquidi e tal puzzo usciva col suo alvenire delle marci tenembre. Noi discendemmo in sull'ultima riva del lungo scoglio, pur davanti a sinistra, e allora fu la mia vista più viva giù per lo fondo, l'ave, la ministra dell'alto segre, infallibile giustizia. Punisci i falsatori che qui registra. Non credo che a veder maggior tristizia fosse inegina il popolo tutto l'inferno. Quando fu l'aere si pieni di malizia, che gli animali, il vino al picciol vermo, cascaron tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, si ristorarono i semi di formica. Era venere per quella oscura valle, languir gli spiriti per diverse diche. Qual sopra il ventre, il qual sopra le spalle l'un dell'altro giacea, il qual carpone si trasmutava per le triste carne. Passo passo andavano senza sermone, guardando e ascoltando gli ammalati, che non potevano levar le loro persone. Io vedi due sedere, assepoggiati, come a scaldarsi poggiate in ghiate in ghiate, dal capo ai piedi schianzi e macolati. E non vi dico a mai menare streghe a ragazzo aspettato dal signorso, neanche a lui che malvolentieri veglia, come ciascun menava spesso il morso delle grunghie, sopra sé per la rabbia del pizzicor che non ha più soccorso. E si traeva un giunghi e la scabbia, come coltel di scardo alle scaglie, o d'altro pesce che più larghe l'abbia. O dù che con le dita ti dismaie, cominciò il tuo cammino all'untiluomo, e che fai d'esse talvolta talaglie. Tinnes alcun latino e tra costoro che son qui in centro, se non ghiati basti eternalmente a cotesto lavoro. Latinsia a noi, che tu vedessi guasti qui ambedue, rispose non piangendo, ma tu chi sei che di noi divantasti? E il duca disse, io sono un che discendo con questo vivo giù di balzo e balzo, e dimostrarlo inferno a cui intendo. Adorsi ruppelo con un rincalzo, e tremando ciascuno a me si volse, con altri che lo dirono di rimbalzo. L'uomo maestro a me tutto si accolse, dicendo, dirà loro ciò che tu vuole. E io incominciai, poscia chi volse. Se la vostra memoria non si involi nel primo mondo da romane menti, ma se la viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete, e di che genti. La vostra sconcia e fastidiosa pena di palesarvi a meno di spaventi. Io fui d'Alezzo, e Alberto da Siena, rispose lui, mi fai mettere al fuoco, ma quel per chi u morì qui non mi vena. Vero è che dissi lui, parlando a gioco, io mi saprei andare per l'aere a volo, e poi in capia a vaghezza, essendo poco, volle che dimostrassi l'arte, e solo perché o non feci dedalo mi fece ardere a tal che l'avea per figliuolo. Ma nell'ultima volcia delle dieci, me per l'Aitinia che nel mondo usai dal nomi nos, a cui fallar non decce, e io dissi al poeta, oi fu già mai gente e si vana come l'assanese, certo non la Francesca si d'assai. Un dell'altro lettoroso che mi intese rispose al detto mio, tra me le sbricca che sette fave a temperate spese, e Nicolò che la costuma ricca del galofano prima di scoverse nell'orto dove tal seme sa picca, e tra me la brigata in che risperse caccia da sciam la vigna e la gran fonda, e l'abbagliato suo senno profersi. Ma perché sappi chi si disse seconda contro i sanesi, aguzza per me l'occhio, sì che la faccia mia vente risponda, sì vedrai che ho son l'ombra di capocchio che falsai i metalli con l'archimia, e te devi ricordare se venta d'occhio o mio fui di natura buona scena. grazie. 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 grazie.